Salute a tutti, eccoci oggi in un scagno di Avere con Samora, a radio che vi conoscete tutti, per parlare di un'emissione che è nata 14 anni fa e che vi conoscete forse tutti, che si chiama Direa Usta. Allora, vogliamo salutare appena quest'emissione, perché i padri da 14 anni hanno lavorato a entrare lì con la corsa, era normale dunque di farci una faccata qui, e beh, come li lavorano, che sono i ricordi che hanno avuto e tanti e tanti anni a discutere con i paesoni che chiamano e si contrastavano. Allora, abbiamo i nostri invitati, Giancarlo Marsiglio, Giancarlo ti saluto. Salute, è l'ingradiabile secondo, è qui a Vagan Samora. Gian Giuseppe Franchi, forse lo sentite con Giancarlo, Gian Giuseppe Franchi è l'insegnante, e circa ora è linguista, ha fatto i libri, poeta, ha fatto da molto affatto, ne parleremo. Allora, io anche, siamo appena in casa nostra, qui si può dire. Allora, per tutte le emissioni di Ulia, rendo appena un'ommaggio, si può dire, per dirla così, come ti è venuta a mente l'idea di queste emissioni? Allora, mi è venuta, mi è venuta che un giorno era l'anziani locali, a Bigena o Deatro, e a Lèbica esistia sempre le fax. E riceviamo un fax, dicendo che in Porto Vecchio, a Biblioteca c'era un scontro che si vergia e chiamavano a gente a bene a partecipa a parlare in lingua gossa di un sujeto qualunque. E su scontro gosti aveva un nome d'idea ostra. Allora, a due colpi, è andata l'idea così, mi sono detto, che feria un bel udito l'emissione, e poi, in più di questa, questa maniera di diamo a gente, aprire la cosa in giro a un sujeto, mi è piaciuta. Allora, ci siamo vetti con l'Ebica, quelli che erano in carica di programmi, ci siamo lampati, e bene che l'affare è picciato, e se ne aveva, a quattordici anni dopo, possiamo dire che siamo veramente contenti. Allora, tu hai parlato di un'attaccia a radio, a Frecuencia Mora, uno dei scopi di un'attaccia a radio è di promuovere la lingua gossa, Allora, si è bollipi, che dice, facce berthe, sollevo sui così, di l'ADN, di a radio, e berge, noi siamo una radio bislingua, passiamo di mona d'urale da o francesa a o gosso, e berge, di idea ostra, mette aganto a lingua francesa, e di una maniera divorzaiante a parlare a cosa, non dico, mica, se siamo contro a lingua francesa, ma è la voce, ma berge, è muscetto sa maniera, e a lingua gossa è più che presente, e poi basta assente la radio da maniera a zero, omo sapere che quantunque la lingua è presente, e tutte le lingue è giro a radio. Ah, domanda a mio specialista, Ognazè, a scala della lingua gossa in un'media come France 3, come la radio, ha cambiato qualcosa, beh, per i gorsi, per la lingua, anche per te che sei professore? Vabbè, io ho una familiarità con la lingua, e anche un statuto ufficiale quantunque, perché anche se non c'è mica l'ufficialità, ma ho fatto che in un media nazionale quantunque, come il CFM, è un media nazionale, che la lingua abbia tamanta, tamanta parte, è diventata una cosa naturale, è diventata una cosa adimessa dal pubblico, cosa che un amico, tant'anni fa, quando ci voleva abbattersi un zio che può andare cantando in un paese. Si può dire, tamanto viaglio. Tamanto viaglio, tamanta strada. Tamanta strada. E però, io anche ai primi tempi, io mi ricordo che abbiamo cominciato nel 1980, parla a corte della televisione, non mi ha sempre mai visto, e anche gli amano, e il fogone, i figatelli, e parlare del francese, ma c'era così, ma, vabbè, lui ha una vergogna sull'ingua, si può dire, ma io ho un punto critico quantunque. La russa era un affare di vergogna, un affare più politizzato, in un senso che ha l'ebica per certe persone, il fatto che il barlacorso era un segno di appartenenza a una mossa politica e geraggio, dunque, è bene, io non ho mai conosciuto i vostri principi, nebo era forse parla migliore che me, Gian Giazepo, ma oggi, quando mi ha visto che c'è più sa... Sabe ora il barlacorso, ebbè, di noi, 30 anni dopo, forse che vogliono sciogliere la lingua, noi o c'è danno, e poi l'istesso è in noi. Gian Giazepo, come spieghi, tu sta... C'era... Il corso... Ha una vergogna per la corso. C'è di chi, come tu dici, era considerato come una lingua dell'intimità, una lingua di fiagabre o sumere, si parlava di vita paesanesca, perché c'era la lingua di una comunità paesana che parlava di i suoi affari, che parlava di questa lingua di i suoi affari, e paria chi parla di cose nobile, fa una poesia d'Estrumurerno, una letteratura che possa essere paragonata anche a letterature di quegli altri paesi, paria un'ambizione quasi impossibile, paria un sogno o una volentà politica, un poco fanatica, di dire noi siamo meglio che gli altri, e che infatti un ragazzo ha pretenzione politica che portasse questa volentà. Ora, in 40 anni, si è vista che non era mica un sogno identitario, ma che era una appartenenza di una mossa che è appiccato belle alte oggi. E poi pensano, noi che parliamo del corso si parla male il francese. E questo è il nostro. Questa allora c'era questa nozione che oggi è tutto il contrario, ma se posso aggiustare che lui è già di un Giuseppe è che di noi c'è niente come posso dire. Forse l'hanno un calcadurino lì, che ho fatto di parlare cose, non si può dire che parlare di un universale, di un mondo. Cioè, di noi questo mi penso, no? Questo è un altro punto, se ne puoi raccontare, di questo punto. Ma la fare, la famosa critica, ma ricordate che abbiamo avuto il soggetto, la famosa critica di rì, di un corso impirisce da imparare il francese, e la famosa critica di noi, che veniva a dire, sono gli studiatori che imponendo il francese non arrivano al corso. Non è mica vero. E io, la mia posizione, che è un po' minoritaria, è dire che non è mica vero, ma c'è una capisce che gli studiatori fra i due guerre, la lingua che era in pericolo, non era mica un corso. Era un francese. Era un francese che non parlava. Un corso sbassava e portava i portelli, si parlava anche a tutti, si parlava in famiglia, si parlava di tutto. Invece che un francese, se tu non imparavi mica la scuola, se tu non lo sapessi mica, un purimico aveva un mistero. Io mi ricordo già testi odori, per imparare che i francesi parlavano un corso, ma ricordo la barola battata, dicono, dì un corso, bastardo. Ma ce ne parecchia. E se non ce l'ha utile, e se lo hanno di qui, è pe... Ma sicura. Poi è vinale, tutte le vinale che non si pronuncia non mi cacciava, e atto, plom, piombo, e tanto. Infine, un corso, erano parciati maestri intelligenti, era una follo, ma non è mica vero che erano i maestri che hanno tombo a lingua corsa. Allora, mi arrivano appena delle Ostra. I primi che hanno chiamato, hai in mente, i primi... Che ti diciano? Come si è passato questo scontro? I primi, i primi non so più. Questo scontro, ma come si è passato? E io mi ricordo, Iwanca. Allora, perché c'erano i contrasti che non si sono mai più stati latendo. Ah, questa è, questa è. I primi, erano battaglie, e si è ancora accettata sempre. No, meno, quanto meno. Quasi più, quasi più. Ma che ricordi hai di i primi che hanno chiamato? Non ti conoscevano, non ti conoscevano. No, no, e poi manca, io conoscevano. Allora, mi sono detto un mestese al principio, ah, adiacevano una demà, per lanciare un soggetto. Questo non mi piacevano mica troppo. E dopo, allora, c'è uno che ha chiamato, ha letto una poesia. L'altro dicevano, ah, questa mi piacevano, è una di un vattore, è una di un nuovo, e uno si è messa a cantare. E uno ha detto, allora, dopo mi sono messo di nuovo a Piazza di Guerri che stava assente l'emissione, l'auditore, con due parole che sono, come posso dire, regolate, e poi l'opera, e poi non è. E a tempo, mi sono messo a Piazza di l'auditore, mi sono detto, tiens, eh, io sono tracciato ad amparare, fate come me, seguite ad amparare. Hai affari, t'hanno stonato, ogni aspetto, dopo i quattro anni, affari, che tu non sappia mica che ti ha amparato, ma mica non te le parole, ma non te le parole, tutti gli anni. Ha scienze, i corsi, ha conoscenze i corsi, la sua lingua, sono stato stonato di modo favorevole assai, ben a dire, che ricollano, d'autareano, conoscenze, tutti gli anni, tutti gli anni, di lingua, sì, ma di no, di cultura, di sapere, anche pure un del gente giovane. Oggi abbiamo avuto un'auditore che ha 50 anni, signore Garupa, ne sa quante i nostri vecchi che ne avevano tanti, 50 anni fa. Intelligenza di lingua. O genio di lingua. O genio di lingua. Questa è una affare, ti ha stonato, quest'affare o? Allora, io, tutti, ho un po' amico intellettualizzato e gerato a lingua, non era un amico ne cabace, non era un amico con l'arnese. E di grazie a Gian Giazè, perché di ero che mi ha fatto gabire su genio di lingua, che, infatti, si scrive come la si parla. E tutti, ho un amico amico. A tempo di noi, parecchiamo, nell'emissione, abbiamo detto come scrive di sabato l'agostino. E tanto, ma poi, non so che l'amico amico, di Gian Giazè, e forse, il genio di lingua, di nostro capito, di questo soggetto. io, 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 ho un'affare, per completare. Infatti, c'è una generazione di quelli che parlano non mi hanno imparato a scrivere, e oggi c'è quelli che sanno scrivere il corso e forse che parlano meno. Non mi ha parlato. Allora, dimmi appena come tu... Allora, portanto, ho scritto oggi, e ne parleremo. Quindi l'ortografia, perché il corso è una... Di quello che conosco è la sola. Indubi, la fonetica e l'ortografia si corrisponde a non tutto, ma, però non fa mica sbagli. C'è uno che conosce e lui, me ne dici, quello che conosce la fonetica, ma con sa mica, come si scrive in questi sogni, cioè che non l'amparca, è presto fatto. Quello che conosce la lingua, quello che conosce la lingua parlata, basta che l'amparca cinque cosei codici, o sci, o di, o di, e si scrive. Ma, ciò che l'è, quasi miracoloso, è che il sistema ortografico e grammaticale di un corso non è stato ambientato l'animo, non è mica stato messo a punto per un grammaticante voglio là, enfin, malherbe vint, hanno fatto qualcosa, no, un popolo ha stabilito con un'intelligenza straordinaria, capicitoide, e che faccio la? Ancigna, una grammatica. Uno che scrive il corso, che scrive, ha una vigilanza differente la parola, voglio è che quello che l'ha imparato ad hanno trasmesso così la parola, dopo c'è quello che le vedete, infatti sono due affari differenti, si può dire, no? C'è un mondo, secondo me, tra quello che l'ha imparato in modo naturale, a dimettere, come i boy, a vostra, quelle di australia, di vostra generazione, e io sono a mezzo, e perché oggi i giovani cominciano per il scritto, e perché c'è che penso, a conto mio, che c'è la puglia se non ti ho scritto a lingua parlata, può essere una maniera di unire a lingua parlata, allora, dopo il pericolo, se non è mica scritto come il gioco, sarà parlato appena, di una maniera appena vizzata, poi io avviene, dunque, l'importanza di un scritto così, di nuovo, non passa bene con la lingua parlata, allora, ma non c'è una pena, io, a mano, quando sto assente, le urci, ho una roba, allora, chiamano, ah, parlano un corso, e poi, andiamo a parlare francese perché tutto il mondo capisce, allora, dimmi, io, un altro, questo affare qui, ben a dire, c'è una vergogna, non la capisco mica, io, c'è una vergogna di parlare a corso, c'è un sintimo, che tutto il mondo non la capisce, e quello che diciamo over a Roma vuole che niente capisca, dunque, c'è una questione di comunicazione, è marginalizzata per la lingua costruita, è tanto, è una maniera di marginalizzarla, ma c'è gente che io, non so mica, cosciente, di Dio Significato, sputico, a radio, e ben anche i giornalisti, certi, di bellissima più parlare francese che parlare a corso, ma io, di mio principio a dare la television, era meglio parlare francese che parlare a corso, e era appena scantato parlare a corso, e poi, se fosse ben, sa, che i colleghi hanno scelto di parlare a corso, non hanno mai caduto all'istessa, o l'istesso già subrovisionale che l'astro, e un eboghi, forse che è stato anche un freno, e un eboghi. in corso, a un eboghi, che era un eboghi. Ma, si può dire che quelli che parlano a corso oggi sono sempre militanti a lingua? O se è un po' di là di un militantismo? Siamo un po' di là di un militantismo. Siamo un po' di là di un militantismo. Allora, quanto a me, non posso parlare di una mia esperienza, io penso, forse militanti non ha parlato appena a volte, ma non è mica nogeante di parlare a corso in un posto che, a me, c'è niente che mi ha detto, mira, sei obbligato a parlare a francese o se è obbligato a parlare a corso. Anca a sa, e ringrazio a Radio France e a RCFM, a di un eboghi, a mento, a diva un emission di lingua gors, e un sostadio di un paio di un animo. Questa ciò è di là di un uo. Donc, a di un uo, sa possibilità, a libertà, di un giusto appunto, di parlare a corso. E se che io, sempre a colleghi, mi ha detto, un c'è niente che mi ha detto di parlare. Donc, se che io vado, mi ha detto a parlare a corso, e beh, a voi deve ancora, allora, mi ridento, penso così, perché non c'è niente abbastanza la lingua gorsa quanto mio. Allora, non siamo dando la pena, la ricchezza è la lingua. Allora, sentiamo poco voi, ho inteso un uomo anziano che si è appena anervato, allora, certo non capiscono mica che ci può essere parecchie parole in parecchie regioni. E rara, rara, e poi l'amico, l'amico che saluto, che si è anervato, Nanzo, di regola, di regola, ha capisciato benissimo e tutto affatto racconcento. Qui, magari che l'ha creduto che lui ci fosse un attacco, addominem, ma quando ne manca appena un caso, ma i primi tempi, i primi tempi, i primi tempi, questo è un gran progresso, un gran progresso che vorrei quantunque metterne risalto, è che i ruiti o tre primi anni, c'era, d'altronde, erano tre o quattro, uno in su e uno in io, e si va al giro in una guerra, si tracciavano, o Gaboli, cinque o sei anni, non c'è mai più stato di questo contrasto, mai più, questo è stato un importante per la lingua, era un affare che, i primi tempi, e si dice così, perché non è noi, non è noi che li parlano con il suo buono, non è noi che non è noi, oggi hanno fatto un riconoscimento, non c'è tanto più, la polinomia è a dimessa. Ora, si può dire che giusto appunto la polinomia, tutti i parlati, tutta questa diversità che ha una ricchezza, è accusantita, se può subire così da gente, e di noi l'immissione ci ha permesso di acquistare i meganismi perché anche i nostri amici già gli raccontano per molti, ma se non si sente che si è esattato dal Tarocco che parla rucchigiano, non dico mica che non gli amici avevano difficoltà, ma... Spieghiamo il sistema di avariazione, ma forse anche a scuola non è mica abbastanza insegnata dai professori, il sistema di avariazione non è mica così, ah qui si regolano, ah qui si regolano, è una logica. Quando andiamo davanti, l'accenti, non mi piace parla di l'accenti sartinesi o astiaci, io mi ricordo i vecchi dicendo tu ho parlato di tal paese, che è un affare che voglio dire di riconoscenza questi direi. Allora, quando tu sei bene di il tuo paese, quando tu sei proprio, proprio raricato nel tuo paese, che tu hai campato, che tu hai battuto quelli di paesi vicini, conosci ho parlato di un paese vicino, ma di un paese vicino viene a dire che io sei un in Castagnia, una dinamica la distingue. hanno i due luoghi in due biglietti. I due luoghi restinguono il paese a 15 chilometri e lo restinguono. Ricordo, l'onore sta a fare, c'è da un parlato cittadino e un parlato paesano. Il bastiacio proprio, sputtico, e beh, i bastiaci lo riconoscono, lo riconoscono a una maniera di stagliare e con suonare che di bastiacia proprio, bastiacia urbana e l'aiacino, l'aiacino, c'è un linguista che aveva fatto l'estensione la jacchienne rurale e la jacchienne urbana. La jacchienne rurale o a Mizzanaccio, o a Valeria Gravona, è anche più duro che lo sartinese. C'ho la pigliata, c'ho la dadi, invece che un sarteto, c'ho di rali, c'ho di pidaro. Vedete, dunque questo è il rurale e dopo il rurale parla non el. Un belgeri parlande parla non el, ma parla non ni. Allora, qu'è il diya, Manu? Riconoscere? Allora, riconoscere, riconoscere. E' verga, so abetsu, e a oa, je pensi che, secondo, o barla, di ayan, te pensi, non è gommi, c'è mica bregis o bregis, ma più omen a 50 km e che c'è che c'è l'osso. E tra, e ci smontesi. D'obo, fai verenza tra uno di vostra regione e forse un ayan e un ayan che uno ne avete mica dritti? No, aspettate, non ne ho mica di sbagliare. un ayan e un ayan mica urbano, ma che sta a digerare uno circondo d'anyan di ote a contumere mi viene a contumere. Bagliare una chiave. Quelli che vorrete in un circondo d'anyan parlano ni, ironi, invece che noi parliamo ne. Un ne, tutto ne. Certo, ma non le sparisce, ma se lo, o ayan o d'or, o ayan o ayan cauciano, ma che fai? Certe parole sono piate o francese e certe no. Come puoi spiegare? Ci sono le parole simantane che spariscono. dicendo di no uscire o l'angelo e l'angelo aggredire o macellare o panitere. Perché in l'anni tra le due guerre e dopo l'anni cinquanta sono giunto una manca di realità che non erano mica conosciute. E poi aveva giulità perché c'era sempre la gugnata pinzuta, c'era sempre il perinero che era che gli indiani a vacanza con la famiglia per i neri erano corsi ma gli indiani passavano due mesi in paese tutti l'anni. C'è stata una contaminazione che era più beccia che così. In degli anni vinti dicevano di andare a cosa ucciso. Oggi più nemmo dicevano a cosa ucciso come in degli anni vinti ma più nemmo dice a fettare la carne dicendo la trance la carne l'articolo lo perdono. Viene a dire che sono diventati più bardinchi annando al vocabolario che è una cosa più facile poi al limite il tuo vocabolario una cosa che puoi chiamare di casa o maison è sempre la stessa cosa invece chi ha grammatica ha sintasa e la stessa di un pensamento è un genere di una lingua e chi ha un genere di una lingua? Tu Yonca in 14 anni di missione senti che il francese abbia su brana ha certe parole che hanno sparito inteso e lo uso a cambiare L'emissione no perché siamo in cerca di se avete parole dunque le persone rigolano dove faccio me ribì eccetera o va tutto insultato di via o mare tutte queste parole sono comunque regolate e bene quelle che sono in paradiso che stanno in telemissione per imparare la lingua corsa penso e mi spiace ma ho detto un po' che non è la lingua c'è la lingua ma siamo mica di ragione in conformità o in realità di oggi non è quella di radio c'è di maniera di parla di c'era un pastore che si trovava difficoltà in un'azienda mi ha detto che era come la candela l'antà la fronda la viura come la candela l'antà tutte le immagini io credo queste parole penso che hai notato tutto non so mica chi fanno qualcosa io non ti hai caro il vostro coraggio perché se che avete fatto spiego che ogni anno si nabbererà questa è una parentesi allora io da voi quattordes anni ogni parola che non conosco mica scrivo chiamo 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 poesia allora io metto di personale se le mi viagge a nassai metto a dimettiamo due triangoli se le un cabello per raccontare un metro cinquanta bon adio parecce informazioni e un boio mica fa pena a un ebogue ma parecce olti so beca da dilla parecce olti adio escutato un caledì che ha conto me son arrivare in l'università perché c'è un travaggio in memoria fa importante e sino oggi è un aglio animo studianti piuttosto che forse può essere interessati a dare su travaglio di un travaglio in monago un costitio la c'è un santo della suore dell'arma c'è un travaglio a fare l'università che è un travaglio duro voglio non voglio esprezzare l'università manca appena perché è un travaglio duro di ricute il capitale perché è scemi per fare aiuto è meglio di o se parecchi o se parecchi non c'è mica un piano non c'è incontro e gulletta perché è una gulletta ragoglie con parole ci insisto non so mica le parole una lingua non c'è una gullana di parole non ma c'è l'expression è l'uastice c'è l'uastice a c'è un pargo 5.000 parole guinese non c'è un paragon esiste tutto il mondo il mondo il mondo musicale penso che il mondo d'idea ostra c'è l'osibodi così domani gioherà a tutto ognuno perché c'è un amico che lascia l'ubert e l'uastice ha giudato un disco duro come dice se l'uastice a fuoco non disco duro si muorecchi come vediamo ma c'è un fume io io sono nel stesso caso ma se tu vuoi so con i e oggi abbiamo la collettività di corsica ci sono mesi per aiutarti ma per non c'è mica mesi se non ti aiutano per co lo sape e non fanno importante sardegna ma questo è una storia dopo questi discorsi voglio che oggi non c'è mica come al contrario a sardegna io sono in sardegna la regione autonoma sardegna aiuta quelli che cogliano vanno accogliendo i paesi non c'è mica qui sta aperte di aiuta c'è quantunque l'università ma la colletto un c'è un travaglio di stella med c'è c'è ma non tutti i vecchi se ne hanno tutti morti ho cominciato 40 anni fa ma se non c'è più niente non ti dire per rispondere come facci sono l'ultima di un mondo che non esisterà ma c'è forse che quelli dell'università di sicuro è bere ed mentua da stella med d'ora ma c'è un travaglione è un un tempo di valo con noce su tra di più a gente ma esiste ma l'arnesi muore con la radio oggi avete una domanda c'è sempre gente che ha con scienza per rispondere da qui a un tani forse che tutto non esisterà più dunque oggi penso che c'è mettere calcissò se mi avortone ma domanda a joni che sono appassionati di lingua gors di un astro di ragò di bia o vondo guì e di vado più possibili perché l'ordinator vuole devono una ricerca e poi mi scord di la des sec che tra tra c'è mi ha mettere il baganto su tra tra i primi e ci la rende liberamente onore un altro puntello di adobunimia adobunimia c'è un mondo che si scopre di boi boi tutto il mondo si mette adobunimia parlo dei anni quindi dei anni non so e allora i cacciaori i bastori che hanno sempre se parola ragoglie c'è un ragoglie è fatto i cadastri tante volte sono falsi e non ne parliamo quindi chi vuole un lavoro di terreno di inchiesta di terreno che voglia quantunque che ci possa squadra abbastanza di trinca papurè o manca o manca qui c'è l'esplicazione l'analisi la toponimia è attrarimentosa quando non è specialista assai assai si sformano a lungo andà quando non è specialista veramente calificato non c'è di nulla ma manca coi hai ho delle discussioni tra toponimia ho dico mica a base dottione ma spesso si e io faccio quello di gastine mi ridigo perché non non sa con scienza e c'è un mondo di ote tutto che salta all'occhio a dimettere un esempio così all'azzardo figa bruna forse non è mica figa bruna erba lunga è più complicato rigola quindi di un affari specialista e questo mi ridigo mi sono accorso una affare io quando ho fatto l'inchiesta con i pastori un locale c'è tre pastori hanno tre nomi differenti ho tre parole sformate mi ha c'è un cristinaccio c'è un stazzo montagna agli allegri agli allegri agli arilla allora c'è tre pastori hanno tre nomi differenti allora come si via un generale credo che i nomi dei luoghi che li siano abbastanza mantenuti posto che hanno parecce milla eranni per certi siamo su teori arriva anche l'antorino che saluto sono pre latini a più parte di toponimi sono antilatini sono endoeuropei di lingua che li parlavano in costo prima che lo ingesse un latino allora se li si sono mantenuti tanto tempo e che bego i giovani cacciaori che vanno nel terreno non conoscono i locali danno la posta un geniale a posto e noi c'è una posta con capo io non vettiamo su con can io conosco a posta di rivedere ma volevo che a dubbine mia c'è cambiato ma c'è c'è riperdere no ma perde cambia no perché in me c'è che c'è che i nomi di luoghi conosciuti sono pronunciati corretti in generale non c'è una pronuncia non c'è mica un pericolo che i giovani e queste persone gambe non sono buoni migliori si scordi no i geografi scrivano scritto n'importa bene si ha visto che quando avevamo a quell'alpinista che aveva il cerco della solitudine tutte queste parole qui è stato c'è che c'è stata questa reazione se non era ma c'è interessante il c'è il cerco della solitudine tutti ne parlano di cambi di cambi di spesso quando mi parla di sabena di perché quando si aveva un nome quando lo muda quando è cambiato quelli di una certa generazione un strapagore Gerardo Berelli e sono anziani che devono imparare un mero jola a is idoli che non s'interessano mica senza agire responsabilità c'è una fatalità ma è un peccato con tu c'è un paese che si chiama Pastorec c'è un straordinario pronuncia i giorni dicono on monto a Pastorec Pastorec a campi onde go Campo on va Campo c'è passi a Campo Piano 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 vieno tutto qui ad avere Campo e Pastorec c'è c'è a c'è 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 cacciarori che mantiene appena appena a condizione del pastorec ce n'è di meno meno i c'è 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 per compiere, penso che i vostri anni parecchi sono morti. Si può pensare a ele, ma sono morti. Allora, sul cambiamento di ente, penso che oggi è scalato per i giorni che hanno rimpiato i civici. Non, però no. Non senti mica una tagliatura? Allora, ciò che è interessante quando faccio un'osservazione dell'emissione, parecchi, e pensiamo a ele, se ne sono andati, abbiamo sempre la possibilità di avere altre persone che sono attempate e che giusto appunto mantengono l'emissione, i giorni sono benenutanti, forse che hanno sa beura di contrastare con quelle che hanno la maestria in lingua, ma solamente, ciò che è interessante avere, è che posto l'emissione, poi deve stare assente in un podcast, quindi un ribio è l'emissione, e così ci avremo che l'emissione di idea ostra, che sono sempre l'emissione di un ribio di internet. E cosa che ribio di un'emissione? Sono i giorni, sono i giorni di 80 anni, in un podcast di idea. Dunque, io sono sempre l'emissione di optimismo, perché se giorni stanno assente, imparano, e poi ci sono i giorni di un'emissione di internet, un'emissione di un'emissione di un'emissione di un esempio e sono i giorni di un'emissione di un linguaggio, e gli anche l'emissione di un'emissione di un'emissione perché è un'amica minuto ma hanno questa maniera di tramandare la lingua hanno questa maniera la nuova tua scuola prima è c'è una rileva di nuovo a disprezzare tutto c'è una rileva è assai importante di una gioventù appassionata appassionata che ha la capacità di tramandare sei cose penso a chi mi risponde che era morto chi mi risponde che era morto avete sempre parlato di istituto come ci andrà meglio non parlo di Tito Limongi sono giovani che hanno proprio la qualità e il talento ma i giovani oggi chi cercano una nuova lingua hanno un ricordo non mi hanno parlato una lingua ora non parla per il militandismo ma ora non parla perché risentano qualcosa come è uguale c'è qualcosa che ci sono che hanno scopato che l'era un strumento straordinario e che il suo strumento li potrebbe portare assai lontano tu e ancora chi ne pensi sono mica vorrei a forza domandare direttamente ai giovani chi ne pensano chi rappresentano con la lingua sono sicuro che la presa di consenza esiste questo non è molto ma ce che manca è di dire di dire di mettere a parlare semplicemente poi compri un messaggio a far passare seria di dire ma guarda un appiede la vergogna parlare pur se bobi sbagliare questo non fa genu si sbagliare all'altare e nemmo nasce amparato parlare parlare e poi io quando ho viaggiato l'emissione 40 anni da rito e poi quando ho viaggiato le prime emissione non sappiamo ancora parlare io parli ciao così non dico che oggi sono capace e parlare ma quantunque 40 anni mi sono appena ammigliurato dunque c'è sempre la speranza della bene e c'è mica capire e poi ci sono individui che hanno proprio una qualità giovane individui giovani che hanno una qualità che porti assai speranza allora a questo punto se ho giovento oggi come senti per paragonare con il corso di fronte al corso se ho giovento come gli uomani come sei optimista come diciamo un avrame ricorso c'è un avrame ricorso anche da quelli che sono più spurbisti ma c'è questa volontà perché quantunque 40 anni di condizionamento buono e malo ma hanno fatto su sentimo di una mancanza con esiste amica prima al contrario prima questa l'avamo in casa chi ne mora va è roba di vecchi invece che va è diventato forse un scopo di giovane questa roba di vecchi allora questo ma vale appena i mesi oggi come si può fare per andare più avanti non imparere questa lingua un affare che sono appena conosco che tu dici perché mi trovo mille parole non so cosa ne chiamo bollini c'è un capadoglio per noi che siamo passionati di lingue perché ci va male ma non c'è mica un bollegio con le scuole con l'università si è appena scantato non c'è appena io non cerco un'onda ma non c'è che c'è la diuvata che aveva tenere sa ricchezza gusti la diuvata sa pareti che sono responsabilità a livelli sfaranti sfaranti dunque non c'è se non si è che dice tecnicamente c'è una squadra di 50 persone perché 10 anni 50 ma c'è un po' c'è noi sono una scanceria tutte allineate forse che c'è pensato se posso passare un piccolo messaggio non c'è un fondo d'archivio e di radio a livello di la televisione di radio di ad stampa e berghi se berete mio game si democchio proprietario di vostre vivure per non continente lì 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 c'è un nazionale vivuelle penso che si trova una maniera di lavorare insieme creando bosch di guì con gente che conosce la lingua regionale corsa regionale corsa non so come voglio io ho parlato di bastori, aspettiamo come lei, aspettiamo che ci sia un giorno che facciamo il suo tavolo, io gli ho un capo. Perché pedagogicamente arriva una cosa straordinaria, noi abbiamo fatto mutandisti, mutandisti per dire anche un parco regionale per noi, e Paolo Simon Poli, che durante noi 40 anni ha fatto ceseria che mi chiamano parole di eri, e che sono un po' con lo stesso spirito, ci stimugnanze che ponesse linguistiche, che ponesse storiche, che ponesse di una tecnica, che ponesse di una storia di un luogo, eccetera. E anche qui parlate di più sfarente di agosto, ciò che pedagogicamente può essere una folla straordinaria per i maestri, in posto che gli ci sono i sottotitoli, e che entro un parla che ha un corso in staseria. Allora, a te, pedagogicamente, come si potrebbe sfruttare? E io, se tu e io, l'idio, non faccio più nulla, io ormai. Forse che si può sognare a qualcosa di così, c'è da dire che domani, mette insieme tutte le ricche, tutto il suo vanno costruito, quello di parole di dire, quello di l'università, eccetera, creare un sito internet con un'apertura gratis al pubblico, ma la dici, domani, in portaguale, non so la camera, con il suo telefonino, che ha la possibilità di avere l'informazione centralizzata, e questa seria veramente una cosa. In Sardegna, hanno fatto un sito internet che si chiama Sardegna Digitale Librerie, e mettono questi, e la regione Sardegna, quelli associi, mettono tutto, tutto un altro gusto, ma è un altro sito di Sardegna, i bastoni che cantano, i cittadini che fanno, tutto un parlato, la regione Sardegna, sono tutti tutelati. No, non è mica tutto. È importante. Non è mica tutto. È un trago che si verrà. Parlando pedagogicamente, sono tutti tutti usati. Parlando di Sardegna, di Gallurese, di Bonsolingue, ma hanno salvato, è salvato, più o meno è salvato. Dunque si può dire, chi ne è? Chi mi risponde? Perché per la pedagogia di svariatezza, perché un problema maio, un studutore, un professore, si trova davanti a una scuola, in una regione con un amico usato, insegna, in un parlato, di Bonsolingue, di Bonsolingue, e dice, ma chi ti ha insegnato, questo studutore? Beh, se le cassette, tu e le nostre, quelle di Juan Carlo, potrebbero essere usate un strato di una pedagogia di svariatezza linguistica. Ma come fa? Ma come va? Come va? Ma io ne ho fatto una cassette in scuola, a passi, e dopo lavorano con i titoli. Che avete capito, i titoli? Ah, ma non ci dice mai così, perché abbiamo tali e tali regole. In Deboio non ci dice mai così, perché a regole è questa chi? C'è la regola, c'è la regola. C'è la rende l'informazione facile. È facile, è facile ciò che dire. Oggi a gente non ha più tempo di andare a ricercare, quindi più sarà facile di andare a trovare l'informazione, meglio sarà. E poi dopo di noi, c'è mica... Ma io parlo di a scuola. A scuola. Ma un professore può andare di noi a cercare l'informazione facilmente. Ma come ne ho prendo mica sai su strumento nelle scuole, che dico. Forse è mica abbastanza. C'è l'estudio del mondo, non puoi mica scalare una scuola così, senza un mondo animo. Per questo che non le parliamo, per sensibilizzarle. C'è l'espettore d'accademia, tutti qui, un rettore, ci sono sensibilizzati a questa ricchezza della lingua. E di noi strutture politiche che le incoragiscono a spazierare. E poi c'è la passata per l'arnese di Morelli. Spazierare gli strumenti. Anche l'arnese di Morelli è stata più. Ovviamente c'è una dagliatura. infatti siamo appena tagliati della realtà della situazione in Corsica Oglia e faccio che abbiamo un fondo e il fondo è un amico. È così. È come le persone che lo portavano un amico che era per cent'anni ad affondare il fondo. Il fondo è da affondare. No, c'è sempre un conto optimista. Forse è che parecce unico che noi saremmo ascoltati, ma a rombo di parlare di passare su messaggio gusti. È per questo che insiste di dire ascolt, ascolt, ascolt. Parliamo di la banca. C'è mi caso lo ascoltare, mi scusate, mi scusate, ascoltare il suo ruolo, l'isigur, ma immaginale, a uita, c'è la rende sa lingua, c'è la dalle, c'è la gara e venti ancora a moa, ma c'è un prepecchio che sa lingua è a moa, è a moa, guarda il canto. Sì, non, ma anche il bio, tu l'as pensato per ciò che gli diciamo dei influenzatori, tu l'as fai campagna bubligida, tu l'as renduto un carattere moa, anche il bio, anche se l'existe, è sicuro, e tutto questo, tu l'as pensato oggi, ma tutta sa madera e sa ricca e sa vortona io passato. Tu l'as trovato l'equilibrio, Agosti. Oh, ma la pena è la bene, la bene, è di aostra, un amica, c'è un amica madame soleil, non, c'è un amica, certi anni, dice, boi, se vado a giro, e tutta va, sapendo che sta in questa emissione, come avevo, ecco? Allora, francamente, non è mica per contare, per contare, no, francamente, il bio, per me, è giusto appunto, è difficile dire altre cose che di aostra, allora che non è una rama, ma di aostra, mi posso assicurare, l'hanno capiata, va, l'hanno capiata, no, mi posso assicurare che quando mi metto, mi metto a posare, qui, e colpo l'emissione, francamente, è il bio, mi credo, mi credo, di, 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 Ti sento che c'è una relazione appena particolare con quelli che ti chiamano. No, 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 perché i Berghi sono lì. Ah, oggi, non ti conosce oggi. Dice ad un giorno, è nata una comunanza di saienti, una fratellanza. Si chiamano Vraeli. Si chiamano Vraeli, è straordinaria. Terribile, è straordinaria. Si chiamano Vraeli, è una piccola famiglia. Hai qualche personaggio, non si è messo. Oh, no, non c'è mica di nome. Ah, non c'è dei personaggi. Ma c'è dei personaggi, c'è assai, hanno riano, hanno scherzi, facciano... Uno di quelli che affascinano tutta la corsa, uno di quelli che affascinano tutta la corsa, ma dice, e lo dice, e ripete, a me è questo che mi ha cacciato dall'inferno. Mi ha cacciato, ha detto che non era più nulla. E dice, va, va, sono calchissimi. La solitudine nei paesi, no? C'ho a pensare, c'è qui. Sono soli nei paesi. Mi parlavo spesso, beh, è già, al principio dell'emissione, Jean-Joseph Guirino, così, mi intuiamo a Zogazada, che non cugniamo... Un sabio. Un sabio. Un sabio rasco, perché era rasco. Ma c'è un'allia sociale, il francese è l'allia sociale, si può dire. Infatti, queste emissioni, è bella che aiuta, si parlano soli, è bella che diciano certi tutti, noi paesi si parlano soli, ma è bella che certi tutti parlano soli. A questo non parlano un compagno? Ah, si parlano un tattieri. Ma è bella che la radio, sui travagli, noi, da vicino, è bella che non è così. C'è un sabio, allora, è bella che l'emissione di Dioostro non è mica un'emissione, come le Zivage, noi odiamo alla radio in generale, perché sappiamo tutto ciò che noi diamiamo, le code dell'emissione. All'uso paesano, sì. E io ho avuto come domani, quando è così un caffè, a taurinato con i nostri amici, per cui ci sono diventati amici... Di voi ti critica. Non, non, ma di voi ti critica. Ci darò che... Certe volte... Ridane, ti ridane. Non, non, ma... Anno a sì, uono di... Ma francamente, ne parlo assai con i miei amici, i miei colleghi, e so, già, nel paesaggio mediatico insulare, ha di una fortuna terribile, so, so, cusciante, diamo fortuna. Allora, entro, mi metto un caffè, all'evoi, entro, parliamo di oggi. Quello che può dire che il suo mestiere è così bello. In fase, questa è la buona per questa missione, no? Di andare verso l'ante, di mettere verso l'ante, di far che l'ante venga verso l'uore. E tu, quando tu spieghi queste parole, usano su... Certo, non è troppo astratto e pedantesco, diciamo, perché... Non è troppo intellettuale, no? No, 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 E forse non mi ripeto. No, ma c'è bisogno, quantunque... C'è bisogno... Perché attraverso il fatto che mi interviene così da... Ha conto meglio una... Un po' sui... Qualcosa di... Da... Mica usirio. Una scientificità, sì, si può dire così. Una scientificità. Quando lui parla di Giuseppe, conto che ha parole a un peso, un amico lo stesso peso che un mio. Un giorno che ti sta assente, un becchio che ha sempre parlato di corso, ricendo una spiegazione di stessa maniera. Io penso mica che non ci fossi di contrasto. Se mi metti a spiegare io, è più complicato. No, no, c'è mica contrasto. Ma ti chiamano? No, no, poco a me, a me poco. A me poco. Si contrastano fra ele qualche volta, come? Io sono mica consente una parola. È rara, è diventata rara, oggi abbiamo avuto un incidente, è rarissimo, rarissimo, rarissimo. Fra ele di contrasto è fra ele. Ma è curioso questo affare, perché sono tutti, infatti, diciamo, è ricchia da savoir che si vuole francese e pensano che si sono solo a sapere con ciascuno che si sa. ma una parola può avere un significato in un paese, può avere un significato un po' che si fa, anzio di quell'altro. Ecco. E quello dice, si dice così, l'altro dice, ma è un amico che amparà a me, come si dice, che io sono nato così e colante. Tanto noi, sono dei castelletti e mi ritirgo. No, ma è difficile far capire qui a Bolecchi. c'è sempre un'originalità della lingua, ogni paese c'è sempre una specificità della lingua. In generale, l'hanno capito, tutti ognuno la dimette, c'è un dialogo gubernante straordinario. La più bella parola è dire salvo a verità. Salvo a verità. Questa è regolata in un'unico. Salvo a verità. Come puoi dire sotto il controllo. E io dico così. Sotto il controllo di salvo a verità. Noi a me, se c'è così, noi a me, ma salvo a verità. Sono diventati di una prudenza scientifica straordinaria. E' bene, in poche parole, io andrei a sé. Come puoi spiegare questa ricchezza della lingua, queste differenze da un paese all'altro? Come si può spiegare? Chi si è mantenuto? Chi dà come spiegazione? E' un paese arcaico, sagrato, anche un fluente esterno che sono state assimilate all'italiano o francese, poi ce ne sono state d'altre prima. E' un bullore, un bullore, un bullore, e poi piccole comunanze, piccole comunanze sparte, sparte, balle. Allora, all'istesso tempo di avere la stessa lingua e questa è una cosa che noi cerchiamo a fare risolta per fare dovere, per dovere che ci sono un sistema di lingua e dopo ci sono i sottosistemi, ma più che così, c'è una logica, ci sono i viri che riegano di maniera scientifica assoluta la svariatezza di parlare, cosa che è un sospettamento. Ma è bene che campano sole, si può dire, c'è pochi scambi stunità strasordinaria, stunità di lingua, malgrado, è una cosa che non c'è mica spiegazione, non c'è mica spiegazione. curioso ci sta fare. E questo è un genio della lingua? E si capiscono, e si capiscono. Ma mica capiscono, le stesse parole, è la grammatica, la grammatica che ti ha il schieno della lingua, che ti ha il suo sostegno, la grammatica è tutta la stessa. un altro fatto importante sono i montagnieri in piedi, i pastori hanno portato esolingue e esoparote in altri circondi, perché sono mille anni che i pastori che li ravassano a corsa in tutti i sensi, il pastore è un paragone maioso, che l'ha parlato in bigu, ha parlato la parola bigu, anche i sartinesi, con la marina di Sartepa sull'Alta Rocca, hanno parlato le sue parole e dopo agli uffici si trovano parecchie parole in montagna e ritrovi in piazza per le stesse parole si ritrovano. Dunque partono le sue parole e dopo questa parola è piata da altre comunità. Tutta fatta. E questo che ha fatto che la lingua si è arricchita così, no? Si è arricchita e si è proprio bullita. Bullita, si è bullita la lingua, si è bullita, non ci ripetiamo mica a che punto che è l'unica lingua a ripetere. Allora in Parigi è passato il contrario, non parliamo mica la stessa lingua, è tutto il contrario. Ripetiamo ma non ci ripetiamo mica quello che vorremmo. Allora è meglio questa passata io anche allora prima io anche se tu che ridani in poche parole di queste missioni di Austria? Che ridani? Ciò che l'ha detto ti richiedo di aiutare? Cioè io mi sono visto un poco di più a mi ripetava ma mi sono visto un poco di più che non sappia nulla. Beh un po' sui li stesso. Angiorenza angiorenza di insericenti. Che ti ho cominciamento di usapere. A coscienza di angiorenza ho cominciamento di usapere. E tu allora andiamo tornando per Carcano no? Beh spero soprattutto mica ben ma piuttosto Beralino che la piensa su spazio conto che è assai importante e c'ho la ringrazia a RCFM perché due ore e i gorsi tutti i anni conto che è assai importante in quanto alla bene spero che pierre è più chance e a gente giusto appunto a gente è più chance di vato esse corso e di noi parla corso. Longa vita vede che è bella ridire da voi perché non ma voglio vede tornare le brugette e salutiamo vostro bravo Longa vita vede c'è assai passione senza passione non si può fare no un consiglio parla di corso e parla di corso e parla di corso Bisogna a tutti Bisogna